Buongiorno a tutti, eccomi qui come al solito per i miei consigli. Oggi non sono puntuale, però sono un incognito, ho la maschera in viso anche sui capelli, quindi irriconoscibile. Volevo darvi dei consigli su come affrontare la nottata. Siamo stressati in seguito al bombardamento mediatico sul virus, al bombardamento del virus un po' meno. Abbiamo bisogno di riposare, di distendere i nervi, i muscoli. Bene, io vi consiglio una camomilla, una semplice camomilla però non basta più, perché per il virus ci vuole qualcosa di un po' più forte. E allora vi consiglio di correggere la camomilla con un po' di assenzio e tutto diventa più poetico. Un altro consiglio, visto che la mucchina costa veramente tantissimo, ha raggiunto dei costi assurdi, allora vedete che, ve lo faccio vedere un po', 70 volumi e con l'assenzio, che ha anche un ottimo profumo, va bene anche come disinfettante per le mani. Certo, non lo trovate in giro, perché in Italia è proibita la vendita dell'assenzio, però su Amazon ci sono delle bottigliette interessanti e costano meno della mucchina. Quindi, io i consigli per oggi ve li ho dati, vi lascio con il mio solito slogan, non credetemi ma pensatemi, e rimando, non lo so a quando. Ciao!